Lorenzo Signorini che dopo vari secondi e terzi posti stasera ha fatto pietta. Complimenti Lorenzo, una consiglia a chi sta iniziando adesso perché a settembre tanti iniziano a lavorare. Io l'ho ripetuto già, l'ho detto altre varie volte. Secondo me l'importante è approcciarci in un modo positivo, avere la voglia di iniziare a lavorare in un modo bello ma non con troppa pressione. All'inizio non c'è bisogno di tanta pressione, farlo in modo positivo e iniziare. Poi vedere che piano piano i risultati se si lavora arrivano. Non è un problema se all'inizio non arrivano subito i risultati, gli incarichi. Io pensavo che nei primi tre mesi avevo preso zero incarichi, quindi anche approcciarmi alla partita IV è stato un tuffo nel vuoto, poteva non andare, però con molta calma arriveranno piano piano, arrivano, se si lavora arrivano. Ricordo tanto lavoro di base, tante notizie, tante acquisizioni, poi sono maturate successivamente, quindi questo è vero. Privati, andare a vedere anche case che anche dentro di te ti diranno questo non me lo darà mai l'incarico, però valla a vedere, non si sa mai nella vita che ti cambia, basta una telefonata in più e ti può cambiare veramente un mese, come mi è cambiato questo mese qua. Sono molto soddisfatto ed emozionato, sono sincero e sono contento. Bene, complimenti. Complimenti. Grazie, grazie. Buona serata, grazie.